Dal 1 maggio fino al 31 dicembre o fino all'uso della cifra stanziata completa, il tratto autostradale L'Aquila Est e L'Aquila Ovest della 24 sarà gratuito, si tratta di un percorso di 5 km. Oggi è stata firmata la convenzione tra il Comune e l'ANAS che gestisce l'infrastruttura abruzzese dopo nulla osta da parte del MIT. Il Comune per fare subito ha deciso di stanziare una cifra importante in bilancio, 100.000 euro per il 2023, altrettanti soldi per il 2024 e il 2025, una cifra stimata dall'ANAS in base all'utenza annua di quel tratto. Un risultato importante anche perché Strada dei Parchi aveva chiesto una cifra superiore di quella chiesta oggi da ANAS, servirà anche a decongestionare il traffico cittadino. Sì, i fondi ci sono, il bilancio recentemente approvato ha stabilito distanziare 300.000 euro, 100.000 per il 2023, per il 2024 e 2025, quindi i fondi ci sono. È una scelta fortemente voluta dal sindaco Biondi proprio perché vogliamo usare questo tratto autostradale come se fosse una tangenziale. La cosa particolare che vorrei diciamo evidenziare è che non è limitata solo a coloro che hanno il telepass, ma può essere utilizzato indistintamente da tutti coloro che entreranno a un casello e usciranno dall'altro proprio per consentire a più utenti possibili di utilizzare questo tratto autostradale piuttosto che la normale percorrenza. Il sindaco Biondi ha chiarito che la loro iniziativa non è collegata alla battaglia degli amministratori di Abruzzellazio. Il comune ha una posizione precisa, ha detto in conferenza noi volevamo gratuità per i pendolari di A24-A25 per chi si sposta per motivi di salute e lavoro, insomma. Sì, è un accordo fatto con ANAS che ha questa gestione temporanea della tratta A24-A25, è un modo per migliorare la qualità della vita dei cittadini che si muovono da un lato all'altro della città e attraverso questo bypass, questa sorta di nostra tangenziale, potranno farlo gratuitamente e anche molto più velocemente. L'impegno di ANAS sarà massimo, ha ribadito l'ingegner Marasco, responsabile di Abruzzo e Molise. L'iniziativa è stata attivata dall'amministrazione ma siamo stati molto veloci. Per i pedaggi ci siamo attivati affinché fosse tutto pronto per il primo maggio perché quel tratto è molto importante per la mobilità comunale. Noi abbiamo seguito la parte amministrativa per rendere operativa questa convenzione, ovviamente su autorizzazione rilasciata dal Ministero. In tanti ingegneri auspicavano che l'ANAS potesse farsi carico di questo costo che è oneroso per il comune, non si può fare. No, la legge 108 che è attribuita alla gestione temporanea delle autostrade ad ANAS destina gli introi di da pedaggio esclusivamente ad alcune funzioni e in primis alla manutenzione, quindi ANAS non ha questa disponibilità e nessuno per legge ce l'ha.